Guardate in faccia e sappiate che conoscere come funziona il meccanismo degli appalti, conoscere come un politico viene eletto, capire, è l'unico modo che avete per difendervi. È l'unico modo che avete per difendervi. Lo sapevo, lo sapevo, porca puttana! In che situazione ti sei visto? Roberto, questo porto è come un buco di culo sfondato. C'entra di tutto. Ho giocato, li ho morti, sempre merce. Io ho fatto in modo che 18.000 tonnellate di rifiuti tossici partiti da Brescia sono stati seppelliti tra Napoli e Caserta, spariti. Io sto qua, bravo. Don Pasquale, mi dovreste mettere nel cofano della macchina. Ma io ho riuscito a fare un po' che ti diverti. Vabbè, fatica, fatica, lavoro. E non basta una pistola per sparare. Ci vanno pure i palli. Ho la rabbia di Caciù. La rabbia. Io potremmo carico, daremmo un ex. Mi ha avuto un certo corso. Mi ha avuto un certo corso. Ho sparato col Kalashnikov. 3.700 morti. Mi ha avuto un certo corso. Ho studied gre